Buongiorno a tutti e bentornati su Focus. Nel video di oggi vi parleremo del Giappone. Per chi di voi ci segue su Instagram o ha visto il precedente video sicuramente saprete che siamo stati in Giappone, un viaggio di 19 giorni. Un viaggio in cui abbiamo voluto viaggiare leggeri, senza troppe pretese di attrezzatura, perché comunque anche per noi era una vacanza. Semplicemente vogliamo raccontarvi il nostro viaggio attraverso immagini. Abbiamo provato solamente la Canon R6 con il 24-105 e oltre alla Canon abbiamo utilizzato l'iPhone 15 Pro Max. All'interno di questo viaggio quindi vedrete due tipologie di foto. Una foto a colori col bordo bianco e tutte queste qui saranno tutte fatte con Canon. Tutte le foto in bianco e nero con sfondo nero invece sono fatte con iPhone. Tutti i video che vedete sono tutti girati con iPhone. Nel video di oggi partiamo da Tokyo, visiteremo diverse parti di questa città, diversi quartieri, una città immensa da 14 milioni di abitanti, folle sotto tantissimi aspetti. Non mi dilungherò in tante parole, ve la raccontiamo tramite immagini. Buona visione. Dopo un lunghissimo viaggio da quasi 18 ore eccoci qua arrivati in Giappone che ci dà il benvenuto con i suoi vici stravaganti, macchine bizzarre, negozi di tecnologia senza senso, cibo buonissimo, metropolitane sovraffollate, gente che dorme metropolitana, viette piene di negozietti, ristorantini, luci, suoni. Il tutto con un ordine e una pulizia impensabile per qualunque città europea. Una città immensa, grattacieli giganteschi e spazi infiniti. Iniziamo ad esplorarla. Musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti